Allora, questo spettacolo è la storia dei sette nani, di cui io suono brontolone, vero, ma mi regalano sempre brontolo, chissà perché, forse è che sono un brontolone. Che cosa dire su questo spettacolo? È uno spettacolo, è una commedia, è una commedia divertente, pazza, folle, assurda, piena di trovate, piena di genialità, no che l'ho fatta io, insomma, vabbè, diciamolo, sì, sì, genialità. Abbiamo una commistione di una, come dire, ironia british, quella nostra, quella italiana, e quindi è una commistione strana, che sta, in queste due settimane, sta veramente discutendo un successo enorme, il teatro è pieno, non c'è neanche un posto a vendere l'oro, e questa è la più grande nostra soddisfazione. Che cosa dire? Non voglio raccontare niente dello spettacolo, è un calambure, è un continuo entrare e uscire da situazioni assurde, divertenti, pieno di battute, per regalare semplicemente un'ora e mezzo di sorrisi e qualche risata allo spettatore. E poi, ovviamente, è il nostro obiettivo, quello di intrattenere il pubblico, è la nostra missione.